Paolo Cobianchi, ci dica tre regole della nonna per implementare una rete IP sicura nella videosorveglianza? Allora, fra le tre regole che potremmo trovare, la prima secondo me è quella della sicurezza nel controllo degli accessi alla rete. Una rete di videosorveglianza, quindi il controllo di chi può accedere e vedere dati sensibili è quindi indispensabile. L'infrastruttura deve essere adeguata per controllare proprio che non ci siano accessi indesiderati. Un'altra nota fra quelle che si sono insegnate potrebbe essere la resilienza e dare la continuità quindi operativa al sistema che è nato per un motivo ben preciso, quello di poter avere un controllo in certi casi anche di situazioni magari di pericolo eccetera eccetera. in questo caso la continuità risulta essenziale proprio per garantire la continuità di esercizio. La capacità di gestione e di controllo è secondo me l'ultima parte perché con la capacità di gestione e di controllo del sistema riesco a garantire anche la parte precedente, quindi la continuità. Riesco effettivamente a controllare che non ci siano né accessi indesiderati, che non ci siano guasti della rete. Quindi il network management, se ho ben capito, in qualche modo assorbe anche le prime due cose ma secondo lei i nostri operatori della sicurezza tradizionale che grado di conoscenza hanno appunto del network design, del network management? Mi sembrano anche parole un po' nuove per loro. Allora sono parole nuove sicuramente per l'installatore tradizionale dei sistemi di video sorveglianza, però dovrà adeguarsi comunque a cominciare a conoscerle e a tener conto di tutti questi fattori che impattano sulla necessità di utilizzare una infrastruttura di reti diversa da quella che lui conosce e quindi il management e la gestione del sistema diventano essenziali per questo. La conoscenza purtroppo è data anche dall'esperienza, non è tantissima ma viceversa chi installa invece reti locali non ha abbastanza esperienza nel poi applicare le soluzioni di video sorveglianza. Quindi insomma occorre mettere a fattore comune le esperienze per uscire anche da questo momento di impasse.